Decisamente sì, anche in virtù delle previsioni, però ne usciamo con una devastazione importante che ha interessato gran parte del Veneto. Ovviamente aver fatto le opere, i bacini di laminazione, aver fatto un sacco di messe in sicurezza degli argini, oltre 2.400 cantieri, ha evitato il peggio. Si consideri che abbiamo avuto piovosità di un'intensità che mai si è vista nella storia. L'Università di Padova, professor Marani, ha detto che ci può essere un ritorno come serie storica dopo 300 anni. 229 mm d'acqua in poco meno di 6 ore, quando questi dati di velocità sono importanti nelle 24 ore.